è abbastanza facile aver appigliato non è come quella locandagia qui si gira qui dietro qui vengono via sotto le mani o i piedi non è come la locandagia è anche liscia oltre il bello ripio ora c'è un altro spi ora c'è da attraversare in giù almeno tu voglia fare la cresta dritta è un po' 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 un selfino si va, è dentro da dentro del canale spacca, ferma è bello, è bello, è bello, è bello è bello, questa roba è bello, è bello, è bello, è bello è bello, è bello, è bello Un cammino, è là, infatti è al sud. È tutta placca, 100 metri di placca, in questi tempi, forse è lì alle 5 da mattina, vengono a dormirci, poi scendono giù. Eccoci qui, Pizzo 200, ore 10 e 10. Allee! 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 Allee!